Maurizio Fuotti registra Il segreto di Susanna di Armando Wolff-Ferrari, un'opera dei primi del Novecento. La mia lettura è una lettura non realistica, cercando di accentuare tutto quello che sono i giochi teatrali all'interno dell'opera e utilizzando un impianto scenico molto assettico, una stanza dove entrano questi due personaggi che interpretano questi due ruoli come se fosse un gioco che si ripete continuamente tutti i giorni assistiti da questo servitore.